Ci sono quelli che si pagano il caffè, se perdi paghi il caffè. E c'è sempre il quinto che sta in piedi, che non può pagare il caffè, che guarda gli altri e gli dice ma io avrei giocato l'assa. E tu sei lì che giochi, che perdi, ma tu ce ne hai soldi per pagare il caffè? E allora cazzo muoio, gioco io. Perché hai soldi per pagare il caffè? I voti, è la stessa cosa, se tu hai voti, ti siedi al tavolo e dici facciamo questo. Ce li hai voti? No. E' una cazzo muoio. Questo, però i voti arrivano da qui. Perché voi lombardi se non votate non contate mica.